Il gelo di Rieti non raffredda assolutamente i cuori dei tanti bitontini e riatini che si preparano ad accogliere Don Vito? Assolutamente, anche perché il nostro sguardo sulla realtà e quindi anche sul gelo che ci ha accolto qui a Rieti, noi guardiamo la realtà attraverso l'incontro con Cristo. E noi che siamo venuti qui non dimentichiamo che dobbiamo accompagnare Don Vito, al di là della nostra amicizia, sempre solida e stabile, dobbiamo soprattutto accompagnarlo con la preghiera perché essere guida di una comunità significa indubbiamente accompagnare un popolo fatto da presbite, da religiosi, da laici, da diaconi e accompagnarli sempre di più a ricordo con Cristo che per noi è il fondamento, è il senso, è il fine della nostra vita. Don Vito, e questa è anche però terra di San Francesco, che augurio vogliamo fare al nostro comune amico? Che sia Don Vito un vescovo francescano, capace di vivere sorella Letizia, sorella povertà e che abbia sempre cura dell'ambiente in cui il suo territorio docesano insiste. Grazie.